e appunto con una magia delle sue al cinquantesimo sfiora con una carezza di sinistro a rientrare l'angolo lontano ma palla di poco poco fuori dai pali e di pochi centimetri ma al cinquantunesimo ancora Vlaovic che segna la sua doppietta stavolta su asti di Di Maria appunto 3 a 0 Juve eroraccio del sassuolo nell'impostazione scusate se leggo gli appunti che mi sono preso ma è necessario appunto eroraccio del sassuolo nell'impostazione con Ajan che gioca mano un pallone Di Maria al limite dell'aria finta al tiro e in buca per Vlaovic che non perdona entra anche Pinamonti al sessantesimo per il sassuolo poi entrano Kostic accolto da un boato fuori quadrado dentro anche De Sciglio per Alexandro due giocatori che gli uventini non amano particolarmente ma c'è un problema al sessantasesimo esce Di Maria Dolorante sembra si tratti di un problema muscolare e al suo posto entra Miretti e qui gelo sullo stadium perché Di Maria oggi diciamo che è stato veramente il fulcro del gioco della Juve e è stato il migliore insieme a Vlaovic della Juve e quindi gli uventini si preoccupano abbastanza ma al settantatoresimo contropiede Juve con Vlaovic che si invola nel corridore centrale appoggia Miretti a sinistra il suo tiro però è murato da Toyan. Al settantaquattresimo un'altra occasione per il sassuolo gran parata di Perin con il piede con cui chiude lo specchio il diagonale incrociato appunto di Pinamonti poi è una Juve che fa entrare dei gran giovani, fa entrare Rovella, fa entrare Sule questa è una cosa che a me piace molto oltre appunto a Miretti che è entrato prima Vlaovic all'ottantasesimo sfiora la tipretta lanciato verso la porta del sassuolo con un paio di doppi passi prova a disorientare i difensori che lo affronteggiano poi riesce a trovare il sinistro deviato in angolo. È un'ottima Juve, una vittoria di carattere della Juve che batte un sassuolo con il tandem appunto di Maria Vlaovic gol al debutto subito appunto per Di Maria che appunto ha fatto anche l'assist per Vlaovic è una bella Juve, a parte i primi 25 minuti secondo me la Juve si è dimostrata squadra ovviamente i nuovi si dovranno anche un po' inserire non male anche la prima di Bremer, anzi buona buona anche l'intesa con Bonucci, non benissimo Kostic ma ha giocato anche poco comunque ragazzi era la prima, nel sassuolo partono dalla panchina appunto Pinamonti e Raspadori che entrano nella ripresa ma non riescono a incidere. Io direi che tutto sommato la Juve ha fatto il suo, magari il sassuolo meritava anche un gol, forse il punteggio è troppo severo un 2-0 era più giusto ma diciamo che adesso quello che preoccupa è davvero l'infortunio di Di Maria perché stasera probabilmente senza Di Maria non so la Juve poi dove sarebbe arrivata, non è che non me ne vogliate, amici Juventini che qui siete ormai l'80% del mio canale quindi siete in gran numero è una Juve che comunque per me convince, convince, mi piace e gioca anche a tratti veramente bene cosa che ultimamente nella Juve non si vedeva, all'inizio della partita si mormora parecchio allo stadion probabilmente nei confronti di Allegri, come ben sapete ormai c'è sempre da un anno anche più la guerra tra allegriani e anti-allegriani, oggi però mi sembra che gli anti-allegriani debbano stare zitti perché la Juve comunque ha vinto e ha convinto, ripeto, a parte forse i primi 20 minuti fatemi sapere la vostra nei commenti, Juventini e non rispondo a tutti, vi invito a lasciare un like, un commento appunto e se non siete iscritti iscrivetevi al canale vi invito ad andare a vedere anche il video del Napoli che ho fatto prima di questo che non sta avendo molto successo che meriterebbe quindi ve lo lascio qui a fine video, andatelo a vedere, commentate anche quello vi invito domani per il post partita della Serie B e anche al mio Fanta Calcio che è gratuito, le iscrizioni sono già aperte quindi iscrivetevi in DM su Instagram se volete partecipare e vi spiegherò come fare è tutto gratis, non c'è premio in denaro, quindi potete partecipare tutti senza problemi vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, buon ferragosto ancora a tutti il vostro Montonere, ci vediamo domani, ciao Musica 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 Musica